Gli obiettivi sono quelli di favorire lo sviluppo del sistema duale, ossia un modello di formazione che vede fortemente integrati e sinergici la formazione ovviamente fondamentale che eroga la scuola con la formazione che contribuisce ad erogare l'impresa, nel caso specifico Eni, che ha deciso di organizzare una serie di iniziative fra di loro integrate che vanno dall'alternanza scuola-lavoro che abbiamo già avviato con grande successo nello scorso anno scolastico con 200 studenti coinvolti e con 16.000 ore di formazione già erogate. Iniziativa che si aggiunge alla stipula avvenuta in questi giorni di 22 contratti di apprendistato di primo livello per 22 giovani gelesi che continueranno a studiare in azienda ma saranno al tempo stesso nostri colleghi e quindi riceveranno oltre alla formazione a scuola anche una formazione molto basata sull'esperienza lavorativa nelle nostre strutture aziendali, quindi alternando i banchi di scuola alle aule della nostra azienda ma anche all'esperienza concreta sul campo e sugli impianti. Questo perché pensiamo che questo mix, questa sinergia sia fondamentale per migliorare la formazione delle persone. Altra iniziativa importantissima che si aggiunge è un progetto pilota sull'abbandono scolastico. Come voi sapete è una piaga veramente preoccupante quella dell'abbandono della scuola perché intanto in Sicilia coinvolge più o meno uno studente su quattro ma perché soprattutto depaupera il nostro patrimonio di risorse più pregiate, ossia le risorse dei giovani e quindi noi abbiamo inteso anche qui in collaborazione con le scuole avviare un progetto pilota. Quindi anche su questo cercheremo di lavorare e pensiamo anche sulla base di altre esperienze avute in altri contesti che questa iniziativa possa contribuire a ridurre questa piaga.